Questo tutorial tratta della fotogrammetria 3D e delle nuvole di punti da scansione laser, nonché delle diverse modalità con cui possiamo importarle e utilizzarle in Analyzer Pro. La prima, e anche l'applicazione classica, è la misurazione di scene e di incidenti. Per fare ciò andiamo su Grafico, Fotogrammetria, Laser Scan e quindi su Paesaggio, Oggetto Statico. Successivamente apriamo il file browser e selezioniamo un file. Questo esempio è stato creato con Agisoft. In questa cartella devono essere presenti tre file. Un file jpg, un file mtl e un file obj. Carichiamo il file obj. Tuttavia non c'è differenza se si carica un file laser scan nel formato e57 o un file obj. Il risultato è lo stesso. Analyzer Pro converte ora il file selezionato nel formato di programma proprietario. Se il modello è troppo grande verrà ridimensionato di conseguenza. Questo potrebbe richiedere alcuni secondi. Una volta completato, il modello viene visualizzato nella finestra di anteprima. Ora vediamo la strada qui. Se è stata già correttamente allineata in Agisoft, sarà correttamente allineata anche in Analyzer. Non è necessario fare nulla tranne cliccare su Esporta e dare un nome, ad esempio Street. Analyzer Pro crea ora quattro file. Un file chiamato street.color.jpg. Questo è un ortofoto della strada. Inoltre crea un file chiamato street.dpt.png, che è il profilo altimetrico letto automaticamente. Inoltre viene creato un file chiamato street.info.txt. Questo file collega quelli sopra. Il quarto file si chiama street.merl.g. Questo è il modello 3D. Questi quattro file sono necessari e non devono essere eliminati. Analyzer Pro crea automaticamente l'ortofoto 2D. È sufficiente ridimensionarlo. Per farlo lo selezioniamo, facciamo clic destro e selezioniamo Scala. Ora inseriamo una distanza di riferimento, in questo caso 5 metri. Cliccando su 3D vediamo la finestra 2D e la finestra 3D affiancate. Anche i veicoli riconoscono la superficie. Se la superficie è in salita, il veicolo viene frenato o accelerato di conseguenza durante un calcolo dinamico della guida. Per posizionare il veicolo, ad esempio qui, riconosce la superficie. Ora passiamo alla seconda applicazione. Questa è molto simile alla prima. Viene utilizzata quando si tratta di una strada di montagna in cui la pendenza è esplicitamente importante. Clicchiamo su Grafico, Fotogrammetria, Laser Scan e poi su Paesaggio, Oggetto statico. E selezioniamo ora dalla cartella Mountain la nostra montagna. Ora vediamo una strada di montagna. Qui vogliamo naturalmente specificare l'accurata pendenza. Vediamo che ci sono tre piastre di segnalazione. Possiamo posizionare i punti qui, selezionando prima un punto e facendo clic destro. Ora dobbiamo selezionare quale punto è il nostro punto di misurazione, in questo caso il punto B. Successivamente dobbiamo specificare la distanza e l'angolo rispetto a questi punti. Per il punto A sono 14 metri e meno 8 gradi e per il punto B sono 4 metri e meno 4 gradi. Poi possiamo fare clic su Allineamento. Vediamo ora che il modello è automaticamente allineato come richiesto nello spazio. Clicchiamo su Esportare e diamo un nome al file. Il programma elabora brevemente e salva il file di conseguenza. Ora abbiamo di nuovo l'ortofoto in 2D davanti a noi. Il vantaggio speciale è che abbiamo anche incorporato la pendenza e la scala corrispondenti e che i veicoli riconoscono automaticamente questa pendenza quando eseguiamo un calcolo dinamico della guida. Per mostrare questo apriamo la dinamica di guida e posizioniamo un veicolo qui. Diamo al veicolo una velocità iniziale di un KME CAC. Poi apriamo la finestra delle coordinate e facciamo clic su Play. Ora vediamo come il veicolo diventa sempre più veloce perché scende in discesa. In questo modo possiamo inserire con precisione le pendenze in Analyzer Pro. Ora passiamo alla terza applicazione che riguarda il confronto dei danni. Clicchiamo su Grafico, su Fotogrammetria, Laser Scan e quindi di nuovo su Paesaggio, Oggetto statico. Selezioniamo un file di scansione laser. Questo verrà automaticamente convertito da Analyzer Pro in file di oggetti texturizzati come si conoscono da Agisoft. Ciò significa che se ora andiamo nella cartella di file e facciamo clic su Damaged Cars vedremo un file OBJ, un file PNG e un file MTL che sono stati creati automaticamente. Ora ridimensioniamo il veicolo di conseguenza e lo adattiamo qui. Successivamente possiamo esportarlo. Ora possiamo eseguire G gli stessi passaggi con un altro veicolo. Abbiamo ora eseguito i passaggi con i nostri due veicoli e possiamo unirli di conseguenza. Nelle proprietà dell'immagine possiamo rendere trasparente il bordo bianco. Poi clicchiamo su 3D. Ora effettuiamo un confronto dei danni in 3D con entrambi i veicoli e possiamo analizzare come i danni dei due veicoli si adattano insieme. Ora passiamo al prossimo caso di utilizzo, ovvero il caricamento di modelli 3D su veicoli in movimento. Clicchiamo sull'icona dell'auto e selezioniamo un BMW U5 dal database del 2010. memorizziamo le dimensioni del veicolo. Lunghezza 4.998, larghezza 1.901 e altezza 1.559 e le inseriamo qui. Ora andiamo su grafico, su fotogrammetria laser scan e su veicolo oggetto mobile. Qui scegliamo il 5 Series BMW sotto la categoria BMW. Ora vediamo il nostro BMW qui. Nel primo passo inseriamo qui i dati geometrici, la lunghezza, la larghezza e l'altezza del veicolo. Ora ridimensioniamo il modello di conseguenza. Poi spostiamo la piastra inferiore del veicolo. La piastra inferiore è quella arancione che vediamo qui. Successivamente possiamo rimuovere le ruote cliccando su rappresenta cilindri qui. Inseriamo un sbalzo e un passo. Poi clicchiamo su tagliare e le ruote vengono rimosse. Clicchiamo su esportare, diamo un nome al file e ora abbiamo un modello 3D nel formato murphg. Notiamo inoltre che la nuvola di punti è stata convertita anche in file obj, png e mtl. Ora possiamo selezionare modello 3D sotto l'icona dell'auto. Scegliamo il nostro file e clicchiamo su ok. Ora selezioniamo il nostro veicolo. Per farlo muovere scegliamo una velocità, qui 10 km per h, e un intervallo di tempo, qui 10 secondi. Poi clicchiamo su ok. Clicchiamo su 3D per la visualizzazione in 3D. Ora Analyzer Pro disegna automaticamente le ruote sul veicolo. Dobbiamo ancora regolare la larghezza della carreggiata con un click sull'icona del veicolo. Ora abbiamo un veicolo in movimento con ruote giranti che attraversa il paesaggio. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che vi divertiate a praticare.